ercai amore e vendetta anticipazioni dell'episodio che andrà in onda su real time lunedì 28 ottobre 2024 alle ore 21 e 30 dove eravamo rimasti rayan e azat decidono di incontrarsi in pubblico la loro scelta susciterà grande scalpore gonul scopre un importante segreto che riguarda firat mentre gli rn cerca in tutti i modi di riconquistare la fiducia di quest'ultimo per entrare nella casa degli aslan bay nel frattempo cn ha un'idea che potrebbe aiutare lui azat a vendicarsi definitivamente della famiglia aslan bay miran impegnato a riabilitare il nome della sua famiglia scoprirà invece da zin il vero motivo per cui rayan l'ha sposato anticipazioni della puntata di lunedì miran ha deciso di voler collaborare con azar il suo unico scopo è scoprire più in fretta possibile che ha rapito ieri yan e soprattutto perché è stato compiuto un gesto così meschino nel frattempo cn ottiene il via libera dal suo padre ed è pronto a convincere azat che il suo piano funzionerà sicuramente più tardi verrà deciderà di sottoporsi un test di gravidanza ma ha paura di rivelare il risultato ad azar alla fine andan e cian pensano che meliche stia nascondendo qualcosa ma forse è soltanto un traditore scrivetevi al nostro canale youtube lvs la vera squadra perché abbiamo tanti contenuti su tutte le sop ma anche su tantissimi altri argomenti buona visione a tutti quanti